Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Continua il corso introduttivo ad After Effects e lo facciamo quest'oggi parlando meglio dei livelli. Nello scorso tutorial abbiamo visto che cosa è un livello in After Effects e in quale modo si differenzia dalle tracce di Adobe Premiere. Quest'oggi ci focalizzeremo un pochettino meglio su quest'area in basso dell'interfaccia e vedremo meglio queste piccole opzioni, queste semplici opzioni che abbiamo a nostra disposizione quando lavoriamo con un livello After Effects. Semplici opzioni tra virgolette perché il 90% del lavoro lo facciamo in quest'area del software, facciamo il 75% via. Prima però vi ricordo come sempre www.fabioambrosi.it, sito internet dove troverete ovviamente l'indice degli argomenti di questo corso, troverete anche il corso introduttivo ad Adobe Premiere se volete imparare a montare un video e chiaramente troverete anche tante altre informazioni che non sto qui adesso ad elencarvi, fateci una capatina www.fabioambrosi.it e poi mi fate sapere. Se vi fa piacere iscrivetevi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video tutorial e cercatemi su Facebook. La pagina da cliccare è Fabio Ambrosi, lì daremo le novità a mano a mano che ci saranno e in futuro, come già sto dicendo da un po' di tempo, faremo anche dei video tutorial live qui su YouTube e ne darà notizia sulla pagina Facebook, quindi mettete un like e teniamoci in contatto. Veniamo alla lezione di oggi, occupiamoci solo della porzione inferiore dell'interfaccia di After Effects, quindi la allargo un pochettino ed eccoci qui. Che cos'è quest'area? Quest'area è l'area che ospita i livelli a cui noi accederemo per poter compiere le nostre operazioni di modifica dei pixel, di creazione di contenuti grafici eccetera eccetera. Innanzitutto come abbiamo già detto, se non l'abbiamo detto lo dico adesso, per poter iniziare a lavorare in After Effects la prima operazione che dobbiamo fare dopo aver creato chiaramente la composizione è portare il materiale che vogliamo modificare all'interno di quest'area, l'area livelli di After Effects. Quindi seleziono l'oggetto multimediale che voglio portare qui nell'area livelli, lo trascino con un drag and drop e questa operazione è molto semplice, rilascio il mouse ed ecco che il livello compare qui nell'area appunto dei livelli. Notiamo come la composizione si popoli con un'anteprima di quello che noi stiamo facendo qui in quest'area inferiore, vediamo anche che questo pannello si divide sostanzialmente in due parti, la parte di sinistra in cui possiamo modificare determinate opzioni e determinati parametri e vedremo meglio tra poco di cosa si tratta e l'area di destra che altro non è che una semplice timeline dove possiamo fare semplici operazioni di editing, come già ho detto nello scorso tutorial in After Effects non andremo a montare un video, andremo a creare effetti, andremo a fare quella che si chiama post produzione di un video, o meglio parte di un video o elementi di un video. Però ecco qualche semplice operazione di editing qui è possibile farla e ovviamente in quest'area controlleremo espressioni, controlleremo keyframe, controlleremo le animazioni e tante altre cose. Quindi per il momento quest'area di destra la lasciamo da parte, ci torneremo, sicuramente ci torneremo perché molte cose vengono fatte qui, ma ne parleremo un pochettino più avanti e vediamo cosa abbiamo qui a sinistra. Allora abbiamo il livello, il nome del livello, ok? Quindi il nome del livello è esattamente il nome del file che abbiamo importato. Ovviamente noi possiamo rinominarlo un livello e io vi consiglio sempre di avere dei nomi semplici e per voi chiari e riconoscibili. Quindi rinominate sempre i livelli a cui lavorate per sapere che cosa contengono e per sapere che operazioni svolgono quei singoli livelli. Per rinominare un livello basta cliccare sul nome del livello con il tasto destro del mouse e scegliere la voce rinomina. Digitate ora il nome totalmente a vostra scelta, il nuovo nome che volete dare al livello, per esempio lo chiamiamo prova, premete enter e il nome del livello è stato applicato. Quindi prima cosa il nome del livello. Quest'area viene divisa in varie parti, in varie sezioni. Iniziamo dalla parte più a sinistra. Il primo simbolo è quello di un occhio, è molto semplice. Il simbolo dell'occhio ci permette di nascondere o rendere visibile il livello a cui stiamo lavorando. Successivamente abbiamo due bottoni che sono sotto la colonnina del megafono qui che serve per abilitare o disabilitare l'audio se il livello contiene audio. Potrebbe essere una clip video e potremmo non essere interessati all'audio quindi possiamo disattivarlo qui l'audio. Abbiamo un altro bottoncino che è sotto all'icona di un pallino e serve per mettere in solo il livello. Quando avremo 10 livelli con questo bottoncino faremo modo di spegnere tutti i livelli e lasciare acceso solo questo livello. Ne parleremo sicuramente più avanti. L'ultima casellina sta sotto al bottoncino del lucchetto. Serve per mettere in luck il livello quindi se c'è questa opzione attiva, se c'è il lucchetto attivo, questo diventa un livello inutilizzabile. Non possiamo fare nessuna operazione perché il livello chiaramente è bloccato. Ancora avanti abbiamo questo quadratino colorato ed è il colore che noi possiamo dare alla traccia. Ancora quando lavoriamo con tantissime tracce è bene essere ordinati e sapere ogni traccia o meglio ogni livello perché in after parliamo di livelli. Ogni livello che cosa fa? Un modo per essere ordinati è dare un nome appropriato al livello. Un altro modo per essere ordinati ovviamente è scegliere un colore per un livello o per un gruppo di livelli. Ancora avanti abbiamo questa serie di opzioni che sono un pochettino avanzate e vedremo più avanti nel corso di queste lezioni introduttive ad after effect. Abbiamo la modalità diffusione. Questa è molto importante quando lavoriamo ad after effect. Chi già ha esperienza di photoshop sa più o meno di cosa stiamo parlando e ancora qui sulla destra abbiamo altre opzioni che ripeto li vedremo nel dettaglio nel corso in parte di questo di questo di questo corso introduttivo di after effect. Dove sono le proprietà dei livelli? Vale a dire questo è un livello ma noi da qui possiamo accedere alle sue proprietà alla per esempio posizione alla scala la rotazione o possiamo anche vedere tutti gli effetti che sono applicati a questo livello. Bene per accedere alle proprietà del livello sulla sinistra qui vedete che c'è una linguettina molto piccina piccina picciò ci clicchiamo sopra e vediamo che viene espanso con un clic quelle che sono le proprietà che ha in sé questo livello. In questo caso c'è soltanto la proprietà di default del livello che è la trasformazione. Se io espando ancora la proprietà trasformazione vedo il punto di ancoraggio la rotazione la scala eccetera eccetera ne parleremo nel prossimo capitolo. Però se io per esempio applico un effetto a questo livello vedete che qui compare un'altra etichetta un altro gruppo di opzioni chiamato effetti e qui possiamo accedere alle proprietà degli effetti che abbiamo applicato a questo livello. quindi queste linguettine servono per rivelare le proprietà dei singoli livelli di default sempre tutti i livelli hanno la proprietà trasformazione che serve appunto per gestire posizione scala rotazione e quant'altro e chiaramente poi ci sono altre proprietà come le maschere che vedremo più avanti in questo caso abbiamo gli effetti e qui possiamo modificare e animare attenzione animare tutti questi valori di queste proprietà sotto la categoria effetti in questo caso sotto l'effetto che ho appena applicato. Per il momento mi fermo qui nel prossimo capitolo vedremo come gestire la rotazione la scala la trasparenza e la posizione di un livello quindi accederemo a queste proprietà le proprietà trasformazione e vedremo un attimino che cosa sono come funzionano e come gestirle www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'articolo di questa lezione se vi fa piacere chiaramente iscrivetevi a questo canale youtube e cercatemi su facebook la pagina da cliccare è fabio ambrosi cercatevi mettete un like e li vi aggiornerò appena ci saranno novità su questo e anche su altri corsi grazie mille al prossimo video tutorial ciao